Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 1 Roma-Napoli, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, per lavori è chiuso lo svincolo Caserta Nord in uscita in direzione Roma. Lo svincolo d'uscita alternativa per i veicoli provenienti da Napoli è quello di Caserta Sud. Sulla 3 Napoli-Salerno, fino al 15 di gennaio, dalle 18 alle 6, per lavori di manutenzione è chiuso lo svincolo Napoli-Porto in uscita verso Napoli. I veicoli diretti al porto dal barco Bausana possono uscire allo svincolo San Giovanni a Teduccio, zona industriale, e proseguire sulla viabilità urbana. Sul raccordo di Benevento, fino al 31 di gennaio, nella fascia oraria 7-17, esclusi giorni festivi e prefessivi, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Benevento della 16 Napoli-Canosa e l'uscita San Giorgio del Sagno in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 7 Bis di Terra di Lavoro, dalle 17.30 alle 19.30 di mercoledì 10 gennaio, in occasione dei festeggiamenti di Santa Filomena nel comune di Mugnano del Cardinale, è chiuso il tratto compreso tra il casello di Baiano della 16 Napoli-Canosa e l'innesto con via comunale San Silvestro. Sulla strada statale 7 Quater Domiziana per lavori sono attive riduzioni di carreggiata fino alle 17 di domani, nel tratto compreso tra Castelvolturno-Litorale-Domizio e Castelvolturno-Nord in direzione Roma. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossella Altamura.